Alla fine credo che non sia Milano l'unica situazione del genere, quando ascolto i miei amici sindaci il governo ha sempre una presenza molto limitata, certamente rispetto a Milano non c'è attenzione, ma sono davvero stufo, stufo marcio di continuare a dirlo e me ne faccio una ragione, questa città è una città che ha la sua forza e che certamente sopravviverà a tutti, andremo l'altro.